Ah no, scusate, la forza dell'abitudine, mi son messo pure la... Ah, son messo a dieci giorni che c'ho sta cosa addosso. Pensavo ci fossete mezzo a una partita della Roma. No, oggi tornano le live reaction delle partite, non della Roma. In questo caso non potevo perdermi in live una partita come Napoli-Juventus. Una partita che c'ha sempre una dimensione importante, c'è una rivalità importante. La domanda che ci stiamo facendo tutti, vista l'ultima prestazione del Napoli, è... Alla fine, chi la spunterà? Mo' prevalatevi 0-0, una partita de' merda. Ecco, super sigla, quella più bella ammaliante sensuale, sempre romanista perché sono romanista, youtubistica, gioventus, madonna, anteno, nezzie, cugino, inciso cose più divine di YouTube Italia, se beccamo tra poco, devo fare il mio pronostico marcatorio e risultato esatto, ho un'idea ben chiara che sto per esporvi tra pochissimo, vai. Fatta la cacca il culo si sciacqua, bidibibodibide, dai lavati il culo anche tu come me, bidibibodibide, ma prima di proseguire, innanzitutto una marea di mi piace se rivolete altre live reaction delle partite non della Roma. Lasciatene tantissimi se volete anche una live reaction non della Roma insieme al buon Fabio, dipende tutto da voi, fatemelo capire tramite tantissimi mi piace ma anche iscrivendovi e attivando la relativa campanella, così ogni volta che pubblico qualcosa non vi perdete più niente, resterete sempre aggiornati e mi fate una cortesia. Più che altro mi rivolgo a quelli che mi seguono sempre affezionati di questo canale, che apprezzano i miei contenuti ma che ancora non si sono iscritti, se mi fate sto regalo veramente ragazzi faccio l'elicottero nudo qua fuori. Detto questo, due canali di calcio ma anche un canale extra calcio è tornata la Formula 1, quindi se siete interessati tutti i canali in descrizione compariranno qui durante il video, io vi dico che secondo me terminerà sul punteggio di 1 a 1, anche se questa veramente è una partita da tripla per eccellenza, visto lo stato di forma del Napoli può succedere veramente qualsiasi cosa, ma io vi dico che a Vlaovic perché passerà in vantaggio la Juventus risponderà Traore. Nome abbastanza esotico seppur lo sapete, io ci ho sempre visto, no, per un calcio, mi è sempre piaciuto, un calciatore come Traore, se faranno come minimo autocoll entrambi e finirà sempre sul punteggio di 1 a 1. Detto questo, dagli a che sta per cominciare, perché sto spizzicando qualcosa qui e lì, capito, quindi mi vedrete mangiare e ruttare come succede a tutte le famiglie italiane. Eccoli. C'ho paura a fare dei denti perché magari c'ho qualche broccoletto che mi si è incastrato, una schifezza, so partiti, dagli a che se comincia, secondo me sarà una partita spettacolare. Cheat. Attenzione che a Ju attacca, io nel frattempo sono andato a mangiare e riparte il Napoli, ho detto che si prospetta una partita spisellante, me credete? Oh, primi 5, sembra una partita veramente viva, capovolgimenti di fronte, occasioni da una parte e dall'altra, godibile per il momento. Pizza, Wustel, patate fritte e mozzarella. Buonissima a dire poco. Ma che te lo dico a fa? Sta col telefono ai orecchi. Ma chi stia a telefonare papà? La palla dentro è interessante? Fuori di pochissimo Alcaraz per Dusan Vlaovic. Fuori di pochissimo, non lo so, non so, convinto, una ripartenza clamor, clamor, scusa, clamorosis della Juventus, no, era a chiesa. Hanno inquadrato Alcaraz che faceva così, pensavo avesse crozzato lui. Vediamo di quanto esce. Ragazzi, è uscita di un pelo. Ragazzi, ha sfiorato il palo. Non ci sarebbe mai arrivato Meret, mai. Ragazzi, stasera sgrattugia in una maniera che il parmigiano reggiano levate proprio. Mamma mia. Dazon per parmigiano reggiano, una sgrattugiata continua. Tiro di healing, Meret c'è, para, Tuzia, Mizzia, calcio di punizione interessante, Okwara o Politano. Da quella posizione, secondo me, meglio Politano, col sinistro. E infatti parte lui, ma sul primo palo, attenzione perché Scesni, in due tempi, ma sgrattugiato nel mentre, non ci ho capito niente, ho sentito solo parlare, ragazzi. Non so, rivediamo, e me risgrattugia. Le patacche delle vostre zie, la sparata alta, healing, da buona posizione, da ottima posizione col sinistro. Questo è volo. Palo! Che palaccio di Vlaovic, ragazzi miei. Occasionissima, l'occasione più pericolosa della partita, ovviamente la Juventus continua a spingere. Mamma che pallonetto che aveva fatto Vlaovic, ragazzi, un pallonetto a dir poco perfetto, nell'esecuzione, nel piazzarla. Cioè, qua è anche sfortuna, eh. Aveva proprio centrato, ragazzi, quell'angolino. Il Napoli, zitto zitto, si è creato un'altra occasione, eh. Scesni che para. Attenzione che può essere una potenziale occasione importante per il Napoli, mette in mezzo alta. attenzione, salvataggio sulla linea praticamente. Ancora! Questa è buona. Praticamente Anghissa, o Anghissa che dir si voglia, non l'ha stoppata. Cioè, stava, era un rigore, sarebbe stato un rigore in movimento, avrebbe tirato un porta, ragazzi. Le occasioni migliori, finora, erano capitate alla Juventus, doppia occasione pericolosissima con Vlaovic, non che il Napoli finora non avesse creato nulla, ma qui, ragazzi, una palla alta al volo. Kvara Shkelia! 1-0 Napoli! 1-0 Napoli! E tiro! E me sgrattugia li mortacci loro. Che razza di tiro, ma qua Scesni c'ha responsabilità, moca la guardo bene, eh. Niente, il replay della sgrattugiata è veramente il top dei top. Là, no, la Scesni commette, ragazzi, sul palo tuo non puoi prende gol, eh. Erroraccio! Vlaovic che si ha bagnato! E so tre! Errorissimo! Da parte del Napoli, quante la vuoi mangiare? Le emozioni non sono mancate, a tra poco! Mamma! Imbucata interessante, due calciatori della Juve in aria, lasciano sfila la palla, la guardano e la prende Meret. Attenzione perché questa può essere importantissima, un altro se ne è mangiato, ma è sempre Vlaovic. Altra, ragazzi, no, è cambiato. Ragazzi, si stanno mangiando l'impossibile. Ma l'impossibile? Non so quello che ti puoi mangiare. La Juve non ci sta, attacca, e ragazzi, stanno giocando al calcio. Stanno creando tante occasioni da rete in questa partita. Ancora Vlaovic, un altro tiro. Ma Meret c'è. Si moltiplicano le occasioni per la Juventus, che non riesce a, come si dice, a segnare. Chiesa con il diagonale con l'1-1-1. Ma dove l'ha messa? Va là! Una bellissima rasoiata, ragazzi, nel momento più inaspettato, perché io stavo per dire, e mi ha anticipato Chiesa, sta partita finisce così. La Juventus non riuscirà a pareggiarla. Mi sembrano calati. Mi sembra che il Napoli stia gestendo bene la partita. E invece, eccolo, lo rivediamo in presa diretta. Uno scarico. E riottiene la palla, non so da chi. E ragazzi, si inventa un diagonale veramente pazzesco. Un gol pazzesco. Pazzesco. 1-1 sotto le gambe di Olivera. Attenzione, non c'è nulla. Ma qui la Juve ha rischiato, ragazzi, una situazione da calcio di rigore. Trattenuto, Victor Rosimane. Lo va a rivedere, ragazzi. Lo va a rivedere. Questo è calcio di rigore. Sì, sì, è rigore. È rigore, ragazzi. Rigore. L'ha parato. E poi il gol. Incredibile, ragazzi. Incredibile. È successo di tutto e di più. Osimane si fa a parare il rigore e gol. Alla fine l'ha spuntata il Napoli. Una partita incredibile.